Si avvia verso la conclusione il piccolo mistero nato attorno a Francesca, l'allora 62enne vedova, intestataria di un documento di identità emesso nel 1927, rinvenuto fra le pagine di una vecchia edizione di Guerra e Pace che il signor Andrea Critzman acquistò da un rigattiere. Come ricorderete, le ricerche da parte di Critzman si erano fermate al numero civico 49 di Viale 20 Settembre, in particolare a quel secondo in numeri romani che appare accanto ad esso sul documento proprio alla voce indirizzo. Si tratta, come effettivamente qualche telespettatore aveva anticipato, del piano dello stabile in cui Francesca abitava. Era infatti prassi praticata, anche se non sempre quella di aggiungere tale indicazione all'indirizzo indicato sulle carte d'identità. E la prova sta in un vecchio stradario, editato nel 1934, in uso ai letturisti, messoci a disposizione dal signor Franco Orlini, in base al quale si poteva risalire alle generalità di chi abitava in uno stabile. Al numero 49 di Viale 20 Settembre, al secondo piano, risultava abitare Janosic Fanny. Fanny è diminutivo di Francesca, Janosic è certamente un'alterazione del cognome che appare sul documento d'identità. C'è una curiosità in più. Qualche anno fa, come ci ha ricordato un altro telespettatore, Renzo Petracco, proprio lo stabile di Viale 20 Settembre 49 fu il set di Troppo Amore, diretto da Liliana Cavani, con Antonia Liscova e Massimo Poggi, parte di una miniserie in quattro puntate intitolata Mai per amore e girata interamente a Trieste.